114 emergenza infanzia ciao come ti chiami dimmi perché c'hai chiamato a scuola a casa online se stai vivendo o sei a conoscenza di una situazione di abuso o di violenza non aspettare a chiedere aiuto contatta il numero 114 anche solo per parlare o porre domande noi siamo sempre qui per te in italiano e in altre venti lingue 114 insieme a te per proteggerti e aiutarti